Francesco Nuzzi, secondo classificato praticamente, hai avuto il secondo premio qui alla seconda manifestazione di Giovanimenti e di cosa parli il tuo progetto? Il progetto Il Parco Racconta vuole raccogliere le voci di chi il parco l'ha vissuto raccogliere tutte quelle esperienze che possano permettere ai giovani e anche a tutte le persone della città di conoscere davvero quello che si svolge in questo luogo, quello che è stato Parco Città ha avuto un ruolo fondamentale all'interno del parco e riuscirlo a divulgare attraverso i nuovi mezzi di comunicazione attraverso un videodocumentario, attraverso uno storytelling che va a ricostruire proprio questa storia Quanti anni hai? Ho 24 anni Professione? Lavoro per lo studio Moarte Creative Studio Cosa ti piacerebbe fare da grande? Mi piace lavorare nella comunicazione, quindi questo penso fa anche parte dell'idea che ho avuto metto a frutto proprio la mia esperienza nella comunicazione Ecco, come dicevano prima, più che un impegno questo, più che un regalo, più che altro è un impegno che voi adesso avete anche nei confronti del parco, nei confronti della città Esatto, infatti uno dei punti principali del progetto è appunto pensare alla sua sostenibilità in prima persona ho messo a disposizione quelle che sono le mie competenze per poter garantire di riuscire a portare avanti il progetto Ok, grazie a tutti Grazie a tutti.